Buongiorno a tutti, allora seconda pizza di serata, una ranch, molto western, pancetta, patate, mozzarella, pomodoro, c'è di tutto di più, le patate sono patate lesse, quindi si cambia, non patate fritte, non patate lesse, ma che bella, che bella libidine di pizza, vi faccio venire fame, lo so, lo faccio apposta per farvi venire fame, così soprattutto se siete a dieta impazzite, e io me la godo, e sì che me la godo, me la godo, come diceva quello là, tanto vi faccio una panoramica pizza, anche dall'alto, vi faccio vedere la pancettina, bella pancettina, vediamo se ce la faccio, eccola qua, bella piena di formaggio, la patata, un patata, tu mancia, come diceva quello là, ciao!